Siamo dietro la Rivera, a Chivasso, dietro il Nadone, e alle mie spalle si vede che sono ripartiti i lavori del quarto cavalcaferrovia della nostra città. Sono particolarmente contento che quest'opera sia ripartita perché oltre che essere un'opera estremamente utile e funzionale per ricollegare il nord e il sud della città, fa parte di un lavoro enorme che ha iniziato a essere sviluppato tantissimi anni fa. Quando sono diventato sindaco a fine 1997 già c'erano dei semilavorati, degli studi, degli approfondimenti su dove avremmo potuto realizzare le varie opere che avrebbero sostituito l'eliminazione di 13 passaggi a livello. Per capire l'importanza della realizzazione di queste opere bisogna ricordare che Chivasso fino all'inizio del 1800 era sostanzialmente racchiusa tra le due, quelle che noi chiamiamo le due circonvallazioni, tra via Caduti per la Libertà e via Demetrio Cosola. Solo all'inizio del 1800 è iniziata la sua espansione la città e quando nel 1855-59 si è realizzata la linea ferroviaria Torino-Milano, come quella che conosciamo oggi, venne realizzata ben lontana dall'abitato della città, mai più immaginando che la città sviluppandosi sarebbe arrivata a inglobare la ferrovia. Invece questo è successo e con varie fasi di sviluppo siamo arrivati fino ai giorni nostri nei quali la zona nord della città, quella che sta oltre la ferrovia, è diventata quantomeno grande come quella che sta nella zona sud della città. Era quindi indispensabile migliorare il collegamento tra le due zone della città e questo fa parte, questo tassello fa parte di questo progetto più ampio che ha iniziato a essere concretizzato nel 1998 quando RFI ha approvato il piano triennale della eliminazione dei passaggi a livello. In quel contesto erano previsti anche l'eliminazione di 13 passaggi a livello sulla linea Torino-Milano nel nostro comune, nel comune di Chivasso. Io allora, fresco sindaco, mi trovai con la struttura tecnica a dialogare con l'ingegner biondo di RFI di tutta una serie di possibili soluzioni da realizzare, di infrastrutture da realizzare per sostituire l'eliminazione dei passaggi a livello. Questo sono passati tanti anni ma questo è un tassello di quel lavoro che è iniziato alla fine del secolo scorso. Qui subentrano i miei ricordi di sindaco, lo sono stato per otto anni dal 1997 al 2005 e proprio in quegli anni si è sviluppato in parallelo ai lavori per la redazione del nuovo piano regolatore che venne approvato nell'aprile del 2004, si è sviluppato il dibattito con Ferrovie dello Stato, una serie di sviluppi, di ipotesi alternative per le varie opere, fino ad arrivare all'approvazione in Consiglio Comunale della Convenzione con RFI, tra comune di Chivasso e RFI, per un importo totale di circa 30 miliardi di vecchie lire. Era stimato il costo non per quest'opera ma per tutte le opere sostitutive. In parte sono già state realizzate, questo è un ulteriore tassello, ne mancano ancora diverse altre. Questa è un cavalcaferrovia che diventa, come dicevo prima, il quarto che collega la zona nord a quella sud della città rispetto ai due che abbiamo avuto per tantissimi anni, quindi partiremo da via Montanaro, dal cavalcavia del cosiddetto dell'ospedale, questo è il terzo e il quarto è quello già in uso da anni all'altezza della prealpina. Questo collega il Bennett sostanzialmente, quindi la viabilità del Bennett della strada che conduce l'autostrada Torino-Milano all'ingresso dell'autostrada, con la strada per Betlemme, con questo cavalcavia che scende dall'altra parte sul corso Galileo Ferraris all'altezza del supermercato Lidl. Dicevo quindi che siamo arrivati sostanzialmente al 2005 con l'avvio della conferenza dei servizi per avere tutte le varie autorizzazioni degli enti per la realizzazione di queste opere. Poi abbiamo avuto un fermo molto forte da parte di Regione Piemonte nel 2008 perché Regione Piemonte si rifiutò di andare avanti, di proseguire nella conclusione dei lavori della conferenza dei servizi perché voleva che il Comune di Chivasso stralciasse da queste opere le opere nella zona ovest, per intenderci verso Brandizzo, verso Montanaro, perché in quell'area doveva passare la cosiddetta lunetta, ovvero quel binario che staccandosi dalla linea che scende da Osta dovrebbe consentire di saltare la stazione di Chivasso e andare direttamente verso Torino. Pericolo per ora scongiurato perché vorrebbe dire perdere delle fermate nella nostra città, quindi perdere di importanza il nodo ferroviario di Chivasso, ma che non è del tutto scongiurato oggi, ma che allora comportò il blocco di alcuni anni alle procedure di valutazione di impatto ambientale per le varie opere. E arrivamo al 2012 con l'appalto di tutte queste opere, quindi alla mia amministrazione seguì quella di Bruno Matola, quella di Bruno Matola, quella di Ciuffreda e fino a quella attuale con Claudio Castello che sta continuando a dialogare con Ferrovie dello Stato per far realizzare, possibilmente in tempi un po' più rapidi di quelli che sono stati fino a oggi, tutte le opere ancora mancanti a completare questa rete di infrastrutture che pensata parallelamente al piano regolatore è la rete che garantisce alla città di Chivasso una migliore gestione del traffico e anche una gestione di eventuali rischi o di problemi, perché con solo due cavalcavia, come abbiamo avuto fino a pochi anni fa, indubbiamente bastava bloccarne uno per un incidente o per un'asfaltatura e il traffico andava in tilt. Con questo arriveremo ad avere una rete di collegamenti decisamente più efficiente tra il nord e il sud della città. Certamente ci sono altre opere anche in costruzione, come il Sottopasso di Casterrosso, come la passerella pedonale che verrà realizzata su via Mazzè al momento dell'eliminazione del passaggio a livello che insieme a questo cavalcaferrovia garantisce il servizio sostitutivo per chi ha piedi in bicicletta o con le auto all'eliminazione del passaggio a livello di via Mazzè. L'obiettivo finale è quello di ferrovie, ma condiviso anche dalle amministrazioni che si sono succedute di aumentare la sicurezza nelle città e per i treni, perché indubbiamente i PL per qualsiasi tipo di malfunzionamento possibile o per imprudenza di qualche utente della strada, rappresentano e hanno sempre rappresentato un pericolo oggettivo. L'obiettivo no, perché tutte le amministrazioni hanno lavorato a portare avanti queste opere. Certamente la mia amministrazione è quella che ha disegnato con il piano regolatore e con questa serie di strade e cavalcavia che sono l'ossatura, se vogliamo dire, del piano regolatore, è quella che ha disegnato lo sviluppo della nostra città. Teniamo conto che alla fine del secolo scorso, attorno agli anni 2000, la nostra città perdeva abitanti ogni anno. Eramo scesi a 23.700, 23.500 e una città che perde abitanti ogni anno, una città che si impoverisce, che perde servizi e popolazione. Il piano regolatore è approvato nel 2004, è molto criticato perché si parlò di cementificazione selvaggia, in realtà ha aumentato tantissimo le aree verdi nella nostra città e ha invertito la tendenza rendendola nuovamente attrattiva e facendola crescere le dimensioni che oggi, che sono dimensioni che confermano il suo ruolo storico di leader all'interno del territorio del Chivassese, certamente in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, che colpisce anche questa città, ma con dimensioni che le garantiscono una significativa capacità di trattenere servizi e di aumentare il numero dei servizi commerciali e terziari che sono sul territorio.